Dove sei? Sono venuto per cercarti e per poterti trovare ho steso le mani sulla croce. Con le braccia stese mi rivolgo al Padre, per rendere grazie di averti trovato. Poi le rivolgo a te per poterti abbracciare. Ti coprirò con le mie ali. Troverai rifugio sotto la mia ombra.